Misure per prevenire il cancro. Casa acqua di rubinetto filtrata è più sicuro migliore di acqua in bottiglia, la cui qualità spesso non è più elevato e in alcuni casi è peggiore di quella delle fonti municipali, secondo uno studio da parte del gruppo di lavoro ambientale. Immagazzinare l'acqua in acciaio inox o vetro per evitare contaminanti chimici come il BPA che possono fuori uscire da bottiglie di plastica. Smettere di topping il serbatoio. Così dicono l'EPA e Cancer Panel del Presidente, pompaggio un ultimo spruzzo di gas in macchina dopo l'ugello scatta fuori può fuori uscire carburante e sventare sistema di recupero dei vapori della pompa, progettato per mantenere sostanze chimiche tossiche come cancerogeno benzena in aria, dove possono venire a contatto con la pelle o entrare nei polmoni. Marinare la carne prima Trasformati, carbonizzati, e ben fatto, le carni possono contenere ammine eterocicliche che provocano il cancro, che si formano quando la carne è scottato a temperature elevate, e gli idrocarburi policiclici aromatici, che ottengono in cibo quando è il carbone alla griglia. Le spezie ricchi di antiossidanti possono tagliare cadibani l'87%, secondo la ricerca presso Kansas State University. Caffeinate ogni giorno. Gli amanti java che bevevano cinque o più tazze di caffè con caffeina al giorno avevano un 40% una diminuizione del rischio di cancro al cervello, rispetto alle persone che hanno bevuto meno, in uno studio britannico del 2010. Un'abitudine caffè cinque tazze al giorno riduce il rischio di tumore del cavo orale e della gola quasi quanto. I ricercatori accreditare la caffeina, decaffeinato non ha avuto effetti comparabili. Ma il caffè era un protettore più potente contro questi tumori di tè, che i ricercatori britannici hanno detto anche offerto protezione contro il cancro al cervello. L'acqua verso il basso e il rischio. Bere molta acqua e altri liquidi può ridurre il rischio di cancro alla vescica diluendo la concentrazione di agenti cancerogeni nelle urine e contribuendo a stanarli attraverso la vescica più veloce. Bere almeno otto bicchieri di liquidi al giorno, suggerisce l'American Cancer Society. Caricare su verde-verdi. La prossima volta che si sta scegliendo di fissaggio insalata, portata per le varietà più scure. La clorofilla che da loro il loro colore è caricato con magnesio, che alcuni grandi studi hanno trovato riduce il rischio di cancro alcol o nelle donne. Proprio una o due tazza di spinaci cotti fornisce 75 mg di magnesio, 20% del valore giornaliero. Snack di noci del Brasile. Sono una fonte stellare di selenio, un antiossidante che riduce il rischio di cancro alla vescica nelle donne, secondo la ricerca da Dartmouth Medical Show. Altri studi hanno trovato che le persone con alti livelli ematici di selenio hanno tassi più bassi di morire di cancro al polmone e il cancro colorettale. I ricercatori pensano selenio non protegge solo le cellule dai danni dei radicali liberi, ma può anche migliorare la funzione immunitaria e sopprimere la formazione di vasi sanguigni che nutrono i tumori. Bruciare il rischio. Esercizio moderato, come camminare a ritmo sostenuto due ore un rischio settimana tagli di cancro al seno del 18%. Allenamenti regolari possono ridurre i rischi, aiutando a bruciare i grassi, che altrimenti produce il proprio estrogeni, un collaboratore nota al cancro al seno. Saltare la tintoria. Un solvente conosciuto come il percloroetilene che viene utilizzato nella tradizionale lavaggio a secco può causare fegato e reni cancro e la leucemia, secondo una scoperta EPA sostenuto nei primi mesi del 2010 dalla National Academies of Science. I principali pericoli sono per i lavoratori che maneggiano prodotti chimici o vestiti trattati con macchine più vecchie, anche se gli esperti non hanno concluso che i consumatori sono ad aumentato rischio di cancro. Alternative meno tossici, i vestiti a mano di lavaggio con sapone neutro e asciugare all'aria, punto di pulizia se necessario con aceto bianco. Chiedete informazioni densità del seno. Le donne i cui mammografie hanno rivelato letture di densità del seno del 75% più hanno un rischio di cancro al seno da 4 a 5 volte superiore a quello delle donne con punteggi basse di densità, secondo una recente ricerca. Una teoria è che il seno più denso il risultato di livelli più elevati di esercizio estrogeno rendendo particolarmente importante. Scongiurare rischi di telefonia cellulare. Utilizzare il telefono cellulare solo per le chiamate brevi o testi, o utilizzare un dispositivo viva voce che mantiene il telefono e l'energia radiofrequenza che emette via dalla testa. Il punto è di più per prevenire qualsiasi rischio che per la protezione contro il pericolo comprovata, la prova che i cellulari aumentano e il rischio di cancro al cervello è né coerente né conclusiva, dice rapporto Cancer Panel del Presidente. Cancro blocco con il colore. Scegliere la vostra attrezzatura outdoor con saggezza può aiutare a proteggere contro il cancro della pelle, dicono gli scienziati spagnoli. Nella loro ricerca, tessuti blu e rossi offerti significativamente migliore protezione contro i raggi UV del sole rispetto a quelli bianchi e gialli hanno fatto. Non dimenticati di mettere su un cappello, se il melanoma può apparire ovunque sul corpo, è più comune nelle zone il sole colpisce, e ricercatori presso la University of North Carolina a Shapely l'hanno scoperto che le persone con melanomi sul cuoio capelluto e del collo morire a quasi il doppio del tasso di persone con il cancro in altre zone del corpo. Scegliere un documento con un passato. Esperienza un sacco di esso, è fondamentale quando si tratta di leggere con precisione mammografie. Uno studio condotto presso la University of California, San Francisco, ha scoperto che i medici con almeno 25 anni di esperienza sono stati più precisi a immagini che interpretano e meno probabilità di dare falsi positivi. Chiedete informazioni track record del radiologo. Se lei è appena coniata o non controlla un elevato volume di mammografie, ottenere una seconda lettura da parte di qualcuno con più distanza in miglia. Mangiare cibi puliti. Cancer Panel del Presidente consiglia l'acquisto di carne privo di antibiotici e ormoni aggiunti, che sono sospettati di causare problemi endocrini, tra cui il cancro. Il rapporto raccomanda inoltre che si acquista prodotti coltivati senza pesticidi e lavare convenzionalmente cresciuto cibo accuratamente per eliminare i residui. Almeno 40 agenti cancerogeni noti si trovano nei pesticidi e dovremmo assolutamente cercare di ridurre l'esposizione, dice Sellers. Fare un controllo acido folico. La vitamina B, essenziale per le donne che possono diventare o sono in stato di gravidanza per prevenire difetti di nascita, è una spada a doppio taglio quando si tratta di rischio di cancro. Consumare troppo della forma sintetica è stato collegato a un aumento del rischio di cancro al colon, così come elevati rischi di cancro al polmone e alla prostata. Ripensare il vostro multivitaminico, soprattutto se si mangia un sacco di cereali e alimenti arricchiti. Uno studio ci dice scoperto che metà degli utenti integratori che hanno assunto integratori con più di 400 mcg di acido folico superato 1,000 mcg al giorno di acido folico. La maggior parte dei supplementi pacco 400 mcg. Integratori individuali possono essere una scelta più intelligente per la maggior parte donne che non stanno pensando di avere figli. Fino l'assunzione di calcio. Domanda principale di latte alla fama può anche aiutare a proteggere dal cancro al colon. Coloro che hanno preso fedelmente calcio per 4 anni ha avuto una riduzione del 36% per lo sviluppo di nuovi polipi del colon precancerosa 5 anni dopo lo studio era finita, ha rivelato i ricercatori Dartmouth Medical Show. Anche se lo studio non era sul latte stesso, è possibile ottenere la stessa quantità di calcio in 3 bicchieri 8 once di latte senza grassi, insieme a una porzione di 8 once di yogurt o una porzione da 2 a 3 once di bassa formaggio grasso al giorno. Impegnarsi a cereali integrali. Sai grano intero è meglio per voi che il pane bianco. Ecco la prova più perché si dovrebbe cambiare una volta per tutte, se si mangia un sacco di cose con un alto indice glicemico carico una misura di quanto velocemente il cibo aumenta il sangue di zucchero si può correre un rischio maggiore di cancro del colon retto rispetto alle donne che mangiano bassi alimenti glicemi carico, hanno trovato uno studio dell'Harvard Medical Show che coinvolgono 38.000 donne. I mangia problemi sono per lo più bianco, pane bianco, pasta, patate e dolci zuccherati. La roba a basso indice glicemico carico è dotato di fibra. Prestare attenzione al dolore. Se stai riscontrando una pancia gonfia, dolore pelvico, è un bisogno urgente di urinare, consultare il medico. Questi sintomi possono segnalare cancro ovarico, in particolare se sono gravi e frequenti. Le donne e di medici spesso ignorano questi sintomi, e questo è il motivo che questa malattia può essere mortale. Quando preso in tempo, prima che il cancro si è diffuso al di fuori delle ovaie, il tasso di sopravvivenza a 5 anni relativo di cancro ovarico è un sbalorditivo e 90 al 95%. Evitare le scansioni non necessarie. Tici sono un grande strumento diagnostico, ma offrono molto di più radiazioni di raggi X e può essere abusato, dice Barton Kamen, MD, PHD, capo ufficiale medico per la leuchemia e linfoma societi. Infatti, i ricercatori suggeriscono che un terzo dei lattici potrebbe essere inutile. Alte dosi di radiazioni possono innescare la leucemia, in modo da assicurarsi che le scansioni non sono ripetute se si vede più medici, e chiedere se un altro test, come ad esempio un'ecografia o la risonanza magnetica, potrebbe sostituire. Goccia 10 chili. Essere in sovrappeso obesi conti per il 20% di tutti i decessi per cancro tra le donne e 14% tra gli uomini, rileva l'American Cancer Society. In più, perdendo chili in eccesso riduce la produzione del corpo di ormoni femminili, che possono proteggere contro il cancro al seno, cancro dell'endometrio, e il cancro ovarico. Anche se non sei tecnicamente in sovrappeso, guadagnando appena 10 libri dopo i 30 anni aumenta il rischio di sviluppare al seno, al pancreas, e cervicale, tra gli altri tipi di cancro.